Vissauro Nuoto è un team composto da diverse società sul territorio marchigiano e la società madre che poi conta anche il maggior numero di atleti è appunto il Polo di Pesaro. Le altre società facenti parte del team hanno quasi nella totalità in gestione gli impianti presso cui svolgono i propri allenamenti, cosa che invece non è per Vissauro. Vissauro non ha un impianto qui a Pesaro in gestione quindi usufruisce di spazi acqua affittati da impianti comunali gestiti da terzi e nonostante la stipula di un contratto ad inizio stagione agonistica come tutti gli anni si fa e con una dichiarazione di disponibilità di spazi acqua che la società oltretutto deposita presso la Federazione Italiana Nuoto per la propria affiliazione a seguito del decreto della fine di ottobre e dopo un primo periodo di utilizzo della vasca da 50 perché l'affitto di Vissauro Nuoto è proprio riferito all'attività agonistica svolta in vasca da 50 e poco prima di Natale ci siamo trovati a non avere più quegli spazi pattuiti. Di conseguenza circa 90 atleti e le rispettive famiglie perché sono ragazzi per la maggior parte minorenni quindi con l'impossibilità di spostarsi in lunghezze soprattutto in inverno quella distanza che hanno dovuto coprire per raggiungere l'impianto di Pian del Bruscolo, Tavulia, Vallefoglia che per fortuna ci ha ospitato nella totalità e quindi ecco questo ha portato nel periodo delle vacanze natalizie è una diciamo agitazione e dispiacere da parte soprattutto delle famiglie. La problematica si è acuita di più nel momento in cui sono riprese anche le lezioni scolastiche che logicamente prendono poi finite le vacanze natalizie, riprende l'attività lavorativa di tutti e perlomeno chi è che aveva avuto la possibilità di essere in ferie e quindi un problema ancora maggiore. Fortunatamente l'impianto, il centro federale Facchini di Pesaro, centro federale della Federazione Italiana Pentatron Moderno ha accolto la nostra richiesta di spazi acqua e di conseguenza abbiamo trasferito la totalità dei nostri allenamenti presso quell'impianto. Vissauro non si può fermare perché i risultati parlano chiaro, è la società prima nelle Marche, a dicembre abbiamo risalito le classifiche grazie alla Coppa Brema dove ha gareggiato insieme a noi per la prima volta anche l'Olimpionico Sabbioni, non si possono fermare i grandi, la categoria Assoluti ma non si possono fermare anche tutti i piccoli, quindi esordienti A e B perché la loro attività va avanti, anche avranno le prime gare a gennaio e a febbraio, ad aprile avremo anche dei campionati italiani assoluti dove abbiamo diversi atleti quindi assolutamente non ci possiamo fermare. Il nostro augurio è quello di poter tornare all'interno della piscina del Parco della Pace dove abbiamo in essere ancora un contratto e degli accordi stabiliti.